Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 28 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Perfetta intesa col partner lasciandolo fare. Il segreto della perfetta intesa oggi è lasciar fare all'altro, potete argomentare con calma e garbo, ma se prende posizione mollate il colpo, assaporato il trionfo diventerà più malleabile. Complice la luna in se stile, abbracciata Saturno filosofo e in buona armonia con Urano, Venere e il Sole, dimenticate le divergenze di carattere e rivalutate la coppia nella sua espressione più dolce e intensa, ancorando il rapporto con valori di stabilità e fiducia reciproca. Se ancora non lo avete fatto presentate l'amato bene in famiglia, oppure organizzate un'uscita con gli amici, piacerà a tutti. Un documento scritto che può essere una lettera, un email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Qualcuno vi penserà oggi intensamente, particolarmente una riete sembra quasi volersi collegare telepaticamente a voi. Ha qualcosa da dirvi. L'amore va per il meglio, ma è sul lavoro che ci sono le vere preoccupazioni. Non lasciatevi prendere tuttavia dal panico e dalla tristezza. Sono difficoltà passeggere. Notizie in arrivo per telefono o per email, alcuni potrebbero restare particolarmente colpiti dalle stesse. Discena la casa. Novità riguardo a una relazione importante, in serata. Sarà una giornata da ricordare. Fai cose diverse dal solito. Accetta un invito. Oggi sarà tutto nelle tue mani e non in quelle del destino. Prudenza. Non abbiate timore a insistere con alcune persone su una questione che vi sta a cuore. Giove potrebbe aiutarvi, ma Mercurio non favorisce certo le comunicazioni in questa giornata. Tutto sommato un monotono. Nella cerchia delle vostre amicizie c'è qualcuno che vi vuole un mondo di bene ma preferisce tenerselo per sé. Una serie di novità potrebbero interessare la vostra giornata. Non fatevi prendere dall'ansia e dal panico. Alcune di queste potrebbero rendervi felici ed essere piccole occasioni irripetibili e inaspettate. Avrai il sostegno delle persone che ti circondano. In amore ti farai coccolare e ricambierai con sentimento la dolcezza del partner. Non abbiate timore di far capire alla persona che vi piace i vostri sentimenti e quello che provate, non temete di essere giudicati. Metteteci solo tanta riservatezza e delicatezza. Non ve ne pentirete. Orizzonte dei transit luminoso. La luna è benefica per il vostro segno e vi alleggerisce l'esistenza. Dalla vostra parte ci sono diversi pianeti, Marte e Urano che transitano nell'amico Toro, Saturno e Nettuno che sono ospitati in pesci, Plutone infine, e nel buon vicino segno dell'Aquario. Ricordate, però che per una corretta previsione astrologica, bisogna conoscere il proprio segno ascendente, oltre al segno solare. E nel caso conosciate il segno ascendente va letto anche quest'ultimo. Venere e Mercurio Cancerini all'opposizione non vi spaventano, anzi, vi attraggono come calamita, è la forza magnetica del romanticismo che in certi periodi dell'anno, con la luna calante vi prendono visceralmente, trasformando l'algido capricorno, iperrealista e razionale, in una creatura fantasiosa, votata ai fasti del passato e della storia, non solo universale, ma anche personale, legata al cuore. Supporto dalla luna romantica in pesci, accompagnata da Saturno filosofo e da Nettuno artista, tutti quanti in se stile, ma a darvi lo switch affinché prendiate coraggio e facciate la mossa giusta, provvede il doppio di Marte e Urano in toro, segno di terra amico del vostro. Dunque sia una dichiarazione d'amore, alla prenotazione di un viaggio, all'iscrizione di un corso estivo culturale, da decidere sui due piedi, ogni lasciata è persa. Amore ed Eros Dopo il confronto scontro con il partner arriva il sereno, un bel chiarimento e una risata riparatrice spazzano via le nuvole e l'armonia di coppia è ripristinata. Serata piacevole con gli amici, tanta allegria e voglia di festeggiare, cosa? Non importa, le prossime ferie, il buon esito di un affare, o più semplicemente il piacere di stare insieme. Una splendida luna in pesci vi infonde intuito. Accorgetevi di chi vi fa gli occhi dolci e non portate lo sguardo altrove. Di solito il vostro è un segno che ama la seretà, la sobrietà, l'essenzialità, tanto da essere scambiato per austero, a volte. Stavolta l'amore bussa alla vostra porta, non chiudetevi a riccio e modificate una parte di voi stessi. Quella parte dura, anti-emotiva, anti-sentimentale. Perché ricordate, nella vita ci vogliono pane e tulipane o, se preferite, il pane e le rose. Lavoro e denaro Una trattativa che si trascinava da tempo finalmente arriva a conclusione. A rischio un contratto importante per prese di posizione pregiudiziali, trovare un compromesso accettabile per tutti non è semplice, ma con la vostra diplomazia riuscite ad evitare gli scogli. Mostrate efficienza produttiva e risultati lavorativi da record, da segno di terra autentico Sapete che il lavoro è il sale della vita e allontana le nevrosi. Date prova al massimo della vostra laboriosità. Benessere Buona la forma fisica, per voi solo un consiglio, masticate lentamente, come suggerisce la nonna, per sentirvi sazi senza ingozzarvi e assimilare meglio. Denaro Sapete da bravo segno razionale, che possono sempre arrivare i momenti difficili, quelli in cui c'è bisogno di attingere ai risparmi. Mettete da parte quel che state guadagnando in questo momento, per voi, di vacche grasse con un Saturno e un Urano ultrapositivi. Per lei, acquisti favolosi in libreria, meglio ancora in rete, ma occhio a non diventare acquirenti compulsive del web. Per lui, se vi sentite nel giusto fate valere con sicurezza le vostre ragioni, al vostro staff non rimarrà che assecondarvi. Colore delle emozioni, rosa polvere. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.